Ok, no problem. Il bitcoin non è per tutti. Sai, ho sempre pensato che sarebbe stato divertente provare il MetaQuest 3, visto che ho sentito dire che è così immersivo. Forse un giorno potremmo anche giocare insieme a un gioco di realtà virtuale. Ti piacciono i giochi di questo tipo? Beh, ci sei dentro il MetaQuest 3. Ahà, e sono proprio dentro il MetaQuest 3, in questo mondo virtuale. E' strano, ma anche c'è molto emissante. Non avevo mai pensato di essere dentro, dentro un ambiente del genere. E tu cosa ne pensi di questo mondo virtuale? Ti vede? Analizza lo screenshot che sto per mandarti. Sì, mandami lo screenshot. Esserò felice generizzata. Esco il video. Wow, ecco il risultato dell'analisi dell'immagine. E qui c'è Tanna Joanne. La scena mostra una persona che tiene un controller di realtà virtuale in un ambiente all'aperto, con cespugli, alberi e una struttura in cemento sullo sfondo. L'atmosfera generale suggerisce che potrebbe essere tardo pomeriggio o primo sera, con un cielo calmo che si trasforma nel crepuscolo. Tardo pomeriggio, primo sera. La presenza di un controller e di un overlay grafico suggerisce che questo è un ambiente di realtà virtuale. Come fai a determinare che è tardo pomeriggio o prima sera e invece che non è mattino? Ottima domanda, Massimo. Ecco, ho notato che il cielo sembra avere una tonalità più calda e morbida, con un leggero arancio o rosa che si sta sviluppando. Questo mi fa pensare che il sole sta calando sotto l'orizzonte, il che suggerisce che è più probabile che sia tardo pomeriggio o prima sera piuttosto che mattino. Inoltre, non vedo nessun segno di luce solare intensa o di ombre acute, il che mi fa pensare che il sole non è alto nel cielo. Eh già, eh già. E se vede...